Benvenuti a tutti in un nuovo video di StarCraft, oggi saremo qua con Tychus, no, niente Tychus, ma da solo, sempre come se, con chi dovevo giocare alla campagna, non è che... Vediamo, vediamo cosa posso fare, E-Predator, Ottimo contro Izzardling, O-I-Arculez. Mi stavo pensando, ma tanto sì, va bene anche l'Arculez tanto, cioè no, giugere Medivac che me lo faccio dell'Arculez, trasporta quanto tre Medivac, sti cavoli, no però sblocco questi qua, E-Predator, allora, attendo a sto coso, tutto aggrovigliato, allora, questo qua non so se farlo adesso, dopo, buh, sarebbero le profezie di Zeratubi, allora, con il solito, di Zeratubi, no, tanto non lo utilizzo, questo mi piace, no, potenza questa qua, dato che vado di Bioball è meglio, diciamo, no, dannaggia, We are, oh, le Vulture, da quanto tempo non le vedevo, sono tipo la mia unità preferita, solamente che non le utilizzo mai, dato che non c'è una storia, mannaggia, i Vulture possono piazzare delle mine ragno, ok, ma, po, po, sì, sono praticamente le mine Widow che ci sono adesso, solo che sono un po' meno forti, dato che non sono infinite, invece le mine Widow tipo sparano raggetti a random proprio, nei rush iniziali sono ottime come cose, però, non mi piacciono molto, però, effettivamente, si troverebbero in utilizzo alla fabbrica, inizialmente, se non fai la Bioball. Forza di Orlon, ok. Le Vulture non le posso ancora fare, ok. allora faremo questo qua, un paio di marine che fanno sempre bene, e uno spazzoporto, per questo lo spazzoporto, è semplice, e me the back, che appa tutto, che appa tutto, ah, producono costantemente rottame? non potete buttarmi giù eh, dove stanno le Vulture? dammi le Vulture eh, Vulture, oh, ecco le Vulture ma per che tempo che non lo usavo? non c'è una... ah, sono contro le Unite Leggeri proprio allora tu... piazza... due torrette, bene bene e poi iniziamo a preparare un'espansione qua allora, con i Marine ripuliamo qui, invece non c'è un'espansione qua non c'è un'espansione qua non c'è un'espansione qua ma si si, mi amare in tranquille non è successo nulla del tipo no, passo due Marine, Robo ahah allora, due Medivac e altri Marine ci serviranno le Marine ricerca Protos morto mentre l'espansione e quindi ultime luc questo sono forti in effettivamente resta corso Allora mettere il deposito qua sarebbe inutile Quindi l'ho metto qua all'esterno Struttura completata Vai SCV Mi quanto è lento Devo provare ad ora per SCV Ma non c'è me Mamma marina Mamma marina Mi salve Dio mai è benvenuto I'm on it I'll file in it Sure Can't wait You gonna give me orders? SCV Ready for dust off SCV ready Vai 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 1 Ah non ho energia SCV ready SCV ready Nonononono Oh... Vai qua. SCV ready? SCV ready? SCV ready? We'll do. By the numbers, boys. Of course. Outstanding. Allora, che pe amato tocco? E attacchiamo tutto di qua. Buttiamo giù questa boss. E fammi fare cose per potenzialmente. Il pezzo qua random proprio. Non voglio raggiungere subito l'obiettivo però, uffa. Quindi, quindi, quindi cosa possiamo fare? Allora. Allora. Faccio un altro polter? Dai, sì. Ok. Dove è coltato alla base. E' fuoco così che tutti morirono Piccolo bunker Ecco facciamo tipo 6 magazzini Ha attaccato a questa Allora andiamo a recuperare qua tutto quanto C'è il dono che non fa Cos'è? Che spavento Allora Questa frase l'ho già sentita Eh se ci vuole attacco Oh 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 Allora Uno Dua Atra In the rear With the gear Jordan Ah No Già tutto No Ok No C'è Forse non c'è troppo E' questo? Un'altra 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 Si attacchiamo Talvez Salve Salve A questo? Un'altra No E' fu così che moriranno tutti No problemo No problemo No 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah c'è altri tank, anna già lui. Se vuole le pro cattive, andiamo a dire le pro cattive. Allora... Allora La ordine è ricevuta La ordine è riuscita La ordine è riuscita D'accordo Hai raggiunto La ordine è riuscita La ordine è riuscita Nucleare Incoming Spero che sto perdendo un limite come un bambino Mi hanno suggerito di mettere Mi hanno suggerito di mettere Mi era sembrato di aver sentito un tanto vabbò Dove che ho messo l'avamposto? C'è l'avamposto il fatto di riardine dell'unità Dose in action E' vero non l'ho raccolto per spena io Io lo tiro in testa a questo SCV Un managgio a lui Andato andato Siete già morti Allora tu Mettiti in pattuglia di qua Mi hai rotto Vedo sto coso che è libero Disponibile Ci continua a cliccare Il si piace Mi tiene una patch Dose 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 Ma E Passo Dose 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 Cosa Cosa Dose 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 Quanto alleva? 24, due colpi C'è una 45 di vita Per Messico Buon buon clorine coming Deploying Mineral field depleted Mineral field depleted Sounds like a plan Copy that Confirmed Will do Deploying Tristezza Allora Altri cost Quanto costano? Ah 150 Eh che sarà me Andate a me Allora Altri costano Altri costano Altri costano Mineral field depleted Mineral field depleted It's getting too hot I'm with it You're on Altri costano Altri costano Altri costano Altri costano Dove sta tutto andare Allora Voi andate qua E costruite uno Centro di comando Giusto giusto per voi Poi uno fa Quello per accattare i minerali C'è il Vespena C'è il Vespena E poi entra qua Uno Due E tre E tre In Due 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 Ok Andere Andere will do false reporting you know what i like deploying never know what hit him go ahead, in the rear with the gear go ahead go ahead go ahead you know, under yep and in the rear with the gear this better be come again ghost reporting roger are you sure about that? ma si attacchiamo via Sì, è malo di qua, geniaccio, è malo All right, all right, I surrender, just take your damn headshot already Ah, dovevo piazzare almeno una ventina di mila di ragni a managgio e tutto Eh, vabbè, anche per questa puntata è tutto, quindi alla prossima, ciao ciao